buongiorno a tutti nuovo video di creazioni allora sto continuando a mostrarvi creazioni che ho realizzato ancora per i mercatini di natale quindi vedete voi allora parto da quelli argentati perché vi faccio così vedere il difetto che hanno che quindi dovrò anche rifare bellissimo allora li ho realizzati in alluminio sono tutti in alluminio fatti tutti in velocità perché dovevo comunque riempire il banco quindi hanno delle forme molto molto semplici ecco allora sono dei tondi li lascio sul cartoncino almeno restano esposti che ho martellato sono tutti in alluminio e poi ho aggiunto dove ho aggiunto delle pietre di mezzi cristalli per ovviamente sempre per contenere il costo allora io penso che si veda questo filo più sottile rame argentato si è ingiallito quindi dovrò anche sostituirli vabbè io poi nei mercatini così metto sempre le monachelle industriali diciamo perché mi fido di più nella dichiarazione nickel free quindi preferisco così e metto sempre il gommino dietro questi sono dei cartoncini del dell'idl degli album dell'idl quando hanno in vendita li uso così perché sono un po più rigidi e quindi ci stanno e però si 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 vede sì che sono martellati sono in alluminio semplici cerchi chiusi così e fissati con un po di wire weaving che dovrò rifare molto bene poi li ho fatti anche in questa forma qui e come vedete anche questi sono martellati io vi dico mi sono messa su pinterest ero veramente a corto di idee ho detto vabbè facciamo qualcosa presto che è tardi e quindi li ho fatti proprio semplici semplici sempre nell'ottica diciamocelo chiaramente che ovviamente non possiamo chiedere chissà quanto ai mercatini quindi anche per questo li ho fatti in alluminio e stesso discorso per questi anche qua c'è un mezzo cristallo semi semitrasparente e sono tutti ovviamente martellati perché questo è tutto alluminio da 2 mm quindi è tutto martellato anche perché mi piace che poi da questo effetto un po riflettente della luce con i segni della martellatura ok poi li ho declinati anche in rosso e sono gli unici che mi sono rimasti tutti ho detto sotto natale il rosso andrà via no ho notato di no molto bene e quindi sei ne avevo fatti e sei mi sono rimasti parto da questo che è una forma che avete già visto eccola qua anche questi sono martellati qui ho messo prima di martellarli uno straccetto sopra in modo che si attutisse la martellatura per non rischiare di rovinare comunque la smaltatura rossa io di solito di solito non è chiusi tanto l'alluminio però ho preferito fare così e per staccare ho aggiunto una sempre questo è un cristallo cinese sì perché l'ho usato anche per fare delle stelline di natale di questo colore bianco opaco perché fondamentalmente è poco perlescente sempre con le monachelle fatte industriali ecco e questi qui poi avete visto anche già questa forma sono praticamente uguali io sono declinati in colore diverso e questo si è girato ecco si è girato eccolo almeno sono speculari sempre martellati ecco qua che lo vedete sono martellati sempre qua questo anche questo è un cristallo cinese questi colore un po che poi è un bellissimo rosso era un lo chiamavano re dark red green qualcosa del genere che poi volevo anche riprenderli e non c'erano più quindi vabbè che li ho usati anche per fare dei lavoretti di natale poi simili a quelli che avete visto che devo sostituire ho fatto anche questi sempre con il tondo solo che la mia fantasia è giriamo dall'altra parte il cerchio praticamente e ho aggiunto qua dei cipollotti trasparenti e ho utilizzato questo filo di rame rosso da 0 32 che avevo preso secoli fa ormai su perle senco però devo no da 0 50 pardon stavo dicendo una cosa per un'altra da 0 50 e che però mi piace molto devo dire la verità è molto affidabile come come colore come vedete anche questi sono martellati perché si riflettono riflettono la luce poi sempre sul rosso e sempre con lo stesso cristallo qui cinese avevo fatto questa questa forma sempre speculari e qui e io quindi non mi capacito perché quelli quelli rossi non sono andati via poi ho fatto questa forma un po inconsueta non sapevo come come girarli ho detto massi facciamoli anche così sempre con un po di wire weaving questi sono dei mezzi cristalli semi trasparenti niente di particolare sarà per quello che non gli ho venduti e poi questi fatti un po più allungati sempre sono tutti martellati e magari adesso non si vedono benissimo tenete conto che io devo fare le foto devo fare foto da quello devo fare le foto è finito anche aprile molto bene poi veniamo a quelli che sono attualmente i miei preferiti che sono questi fatti dorati perché perché questo filo di alluminio dorato guardate che bello che quando lo martellate c'è proprio una luminosità è quel punto di dorato che a me piace tantissimo perché c'è quel dorato giallo giallo che a me non piace questo qui che penso che venga chiamato non rose gold però è proprio un dorato chiaro praticamente sempre filo da 2 mm martellato stessa cristallo cinese praticamente opaco ecco in questo caso ovviamente monachella dorata poi ho fatto questi sempre di forma allungata anche questi tutti martellati sempre con il mezzo cristallino con la coppetta semplice semplice anche questi facciamo tutte le foto si ancora fa poi ho fatto questi a forma un po così o quel metto sembra una campana in effetti poteva sembrare faccio un mercatino per pasqua magari e quindi anche questi questi sono diversi vedete questo è un semi trasparente praticamente questi sono quei cristalli che io dico si prendono dagli indiani per capirci insomma sono rimasugli che avevo e quindi ho utilizzato questi per non riempire troppo sempre anche questi martellati ultimi visto che quelli dorati ne ho venduti ne ho fatti vabbè ne ho fatti sei ne ho venduti più e questi semplici e semplici 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 semplicemente con un po di wire weaving ho la lingua incartata stamattina con con un po di wire weaving qui sul bordo giusto per fare in modo che non si aprissero anche questi sono tutti martellati vedete che riflettono moltissimo la luce ok finito non ho altro da dirvi ho fatto in fretta oggi al prossimo video ciao